Dal 2015 al 2021 potevamo osservare una grossa spinta per adottare le cosiddette tecnologie cloud, ossia ospitare dati su computer terzi, quindi server SQL ospitati in computer terzi, oppure fare eseguire codici a computer terzi. Il cloud sicuramente esternalizza le essercature di avere una infrastruttura in casa, come ad esempio computer e server, e quindi evita tutta la manutenzione del caso con annessa sicurezza. In questo episodio capirai, però, che in alcuni casi non conviene. Potrai decidere che ho un pregiudizio a riguardo per un paio di motivi. Ti spiego perché potresti vederci un bias, altra parola per pregiudizio. Primo motivo per una vicenda personale collegata all'ecosistema Amazon, e questa vicenda personale è stata rafforzata da un podcast che tiene Walter Vannini, che essenzialmente mostra come molte grosse aziende hanno una cosa in comune, clausole vessatorie. In altre parole, ti incastrano tramite alcune clausole contrattuali o e costi per uscire dal contratto. Nel caso specifico del cloud, i cosiddetti costi egress fanno parte di una tecnica per tenerti all'interno del loro servizio. Comunque, ti leggo la richiesta. Disponiamo di eccellenti cruscotti dati già costruiti sia in Tableau che in Power BI. Il problema è che stiamo cercando di scalare queste visualizzazioni e condividerle con molte più utenti, forse anche con il pubblico. Le opzioni di hosting di Power BI Tableau sono diventate costose e ingombranti. In questo caso, hosting significa ospitare quei cruscotti su quei due servizi. Quindi ospitano quei cruscotti su computer terzi, accessibili pubblicamente tramite un collegamento. Proseguo. Potremmo utilizzare Tableau Public per un hosting gratuito, ma abbiamo bisogno che i dati vengano aggiornati periodicamente tramite un codice di retrovia. Interpretazione personale. Questo può essere fatto con un foglio di Google, ma i nostri dati stanno diventando troppo grandi e non possono più essere gestiti in un foglio di Google. Ora abbiamo a che fare con più fogli di Google e l'aggiornamento e il monitoraggio di tutti è diventato impraticabile. Vogliamo qualcuno che ci aiuti con una soluzione open source, o a codice sorgente aperta, che possa replicare i nostri cruscotti esistenti utilizzando strumenti bla bla bla, non ci interessa. Non vogliamo sacrificare la funzionalità all'aspetto, se possibile. Vogliamo che questi cruscotti mantengono il loro attuale livello di qualità. Tra l'altro, aggiungo che questa azienda, secondo me, fa parte delle aziende mini, in termini di numero di dipendenti, a quanto ho capito nella quarantina. Ora, quando ho letto Tableau Public, sinceramente mi sono sentito un po' confuso, perché va proprio contro la necessità di condividere più utenti. Questa soluzione Tableau non è adatta se il cruscotto mostra dati sensibili, perché in quel caso solo il creatore del cruscotto può visualizzarli. Io, ad esempio, ho un profilo su Tableau Public, ma tu puoi vedere solo i cruscotti dati che io ho spuntato come pubblici, ne ho altri privati. Ad esempio, ho un cruscotto dati che traccia l'andamento della domanda in un mercato specifico. Inoltre, nella richiesta che ho letto, io vedo anche la necessità di andare oltre i fogli di calcolo di Google. E, su questo tema, ho fatto un paio di video su come iniziare gratuitamente con base di dati, perché essenzialmente la base di dati, cioè il server SQL, indipendentemente se è ospitato in casa o da terzi, serve quando ti accorgi che fai fatica con i fogli di Google o, peggio ancora, con Excel. E, come anticipato, qui vedo la necessità più profonda portare in casa certe soluzioni, perché il cloud è diventato costoso e ingombrante e questa cosa l'hanno scritta a chiare lettere. Facciamo un esempio. Shiny, proveniente dal linguaggio statistico R, permette di avere un cruscotto dati ospitato in casa, quindi self-hosted. Chiaramente questo tipo di cruscotto, come forse avevo letto in qualche altro episodio, è più lungo da costruire rispetto a Tableau o Power BI. Infatti, Shiny è una libreria del linguaggio R e quindi il cruscotto si costruisce via codice, non con interfaccia grafica, come appunto il caso di Power BI, Tableau, ma anche Google Looker. Nel caso del avere in casa una base di dati, PostgreSQL e MySQL permettono di avere una base di dati senza costo di licenza. Io ovviamente sto andando per assodato che sia il cruscotto open source che questi server SQL hanno all'interno dell'azienda un computer, almeno uno per lo meno, per essere ospitati. E la scelta dei computer dipende anche dal carico di lavoro. Detto in maniera più ingegneristica, il dimensionamento hardware di queste macchine deputate a fare questi due compiti dipendono dal carico di lavoro. Ad esempio, gli accessi, nel caso del cruscotto, lettura e scrittura, nel caso dei server. Essenzialmente si possono avere ostacoli lato velocità, connessione internet, lato elaborazione dei dati, che dipende dal processore delle macchine, ma anche dalla RAM, dalla memoria volatile delle macchine. E ovviamente, se immagazziniamo dati, abbiamo anche una possibile fonte di rallentamento sul supporto fisico dove immagazziniamo dati. sicuramente conoscerà gli hard disk, che spero sono meccanici. Dieci anni fa gli SSD sono diventati più economici e sono molto più veloci. Negli ultimi cinque anni si parla di memorie NVMe. Praticamente sono più veloci perché utilizzano una porta, chiamiamolo così, che ha una banda molto più elevata, sia rispetto agli SSD che usano una porta SATA, ma soprattutto rispetto agli hard disk meccanici. Quindi, come hai capito con questo discorso, quando si porta in casa le cose, ci sono più cose da considerare. Meno costi sul medio e lungo periodo, ma più responsabilità. Se ti è venuto il dubbio che potresti aver bisogno di una soluzione cloud o vorresti evitarla, possiamo discuterne in una chiamata gratuita di circa 30 minuti che puoi prenotare su www.staticalmo.com slash contact e troverai il bottone per prenotare la chiamata all'orario che preferisci. Io ti saluto e alla prossima. Ciao!